Ha deciso di non ascoltare le sirene della Serie B, ha scelto di scendere di categoria e di seguire il suo mentore Gigi Simoni. Ha voluto Cremona per ritornare in alto, vincere e se possibile anche divertire. Così si è presentato Vincenzo Torrente, da oggi nuovo tecnico della Cremonese. Il nome del mister ex Bari circolava con insistenza già da giorni sulla scorta del rapporto privilegiato con il direttore tecnico Simoni, prima suo allenatore a Genova, poi suo dirigente a Gubbio, insieme vincitori di due campionati. Io ho una grande fiducia, noi abbiamo vinto due campionati assieme, lavorando in questo modo, quindi è chiaro che i presupposti sono tutti positivi e piacevoli anche perché quando lavori due anni e poi dopo mantieni questo tipo di rapporto, è chiaro che c'è tra di noi una comprensione del lavoro, del quotidiano. Nella tarda serata di ieri la firma che lega Torrente alla società di Via Persico per due anni. Una scelta di contratto in prospettiva, ha spiegato il presidente Calcinoni, che è un segnale di come verrà affrontata la stagione. Torrente arriva a Cremona accompagnato dal preparatore atletico Mengoni e da quello dei portieri Pasqualini, ma soprattutto dal buon lavoro fatto a Bari, dove con una squadra molto giovane ha messo in mostra bel calcio e concretezza. Sì, è una scelta che mi stimola, è una scelta dettata dal progetto ambizioso che c'è la Cremonese, quindi della presenza soprattutto poi di Gigi. Cercheremo di dare entusiasmo alla piazza, cercando di fare un calcio propositivo, divertente e alla fine concreto, perché poi alla fine quello che conta sono poi i risultati. Il tecnico Campano costruirà la sua squadra secondo il 4-3-3, sistema di gioco non dogmatico ma flessibile, i cui interpreti sono però ancora tutti da individuare. Un lavoro di mercato che con Zocchi e Simoni partirà da domani. La mia base di pertenza è quella, il modulo che ho adottato quasi da sempre, con l'alternativa al 3-4-3, ma durante la gara poi ci può essere anche qualche variazione in base al momento della gara. Intanto abbiamo fatto una valutazione così con Gigi, il direttore sportivo, però da oggi inizieremo a valutare chi può restare, i giocatori da inserire per il modulo funzionale, ancora presto per la valutazione su chi rimane e chi andremo a prendere. Dall'esperienza di Gubbio e di Bari, ha detto Torrente, porto in dote la cultura del lavoro, la professionalità e un calcio propositivo ma anche concreto, perché l'obiettivo dichiarato è quello di ritrovare la categoria appena lasciata.